Per comprendere appieno la società della seconda metà dell'Ottocento, dopo aver parlato di Comte, dobbiamo citare un altro personaggio molto importante, Charles Darwin, che è famosissimo in tutto il mondo per aver scritto il trattato L'origine delle specie. Piccola notazione grammaticale, in italiano specie è invariabile, quindi si usa sia al singolare sia al plurale il termine specie, una specie più specie, perché deriva appunto dal latino. Nell'origine delle specie, Darwin dimostra scientificamente, dopo una serie di osservazioni presso l'isola Galapagos, che gli esseri viventi hanno subito nel corso delle centinaia, di migliaia di anni, un'evoluzione. L'evoluzione della specie, appunto. Cioè, l'uomo non è nato, creato uomo, ma deriva con ogni probabilità da un ceppo di scimmie antropomorfe, che a loro volta derivano da altri primati, che a loro volta derivano da altre creature, e così via. Tutte le specie animali subiscono un'evoluzione nel tempo. Un'evoluzione nel tempo che è determinata dalla selezione naturale. Darwin dice, per caso, alcuni gruppi di animali sviluppano delle caratteristiche più adatte al determinato ambiente in cui vivono, e quindi hanno maggiori possibilità di salvezza, di sopravvivenza. E quindi queste caratteristiche fortuite che si crea, queste modifiche del patrimonio genetico, tra l'altro studiato proprio in quegli anni da Mendel, siamo sempre nell'Ottocento, spiega il motivo per cui c'è stata un'evoluzione delle specie, dai primati agli uomini, ma prima ancora dagli anfibi, dai rettili, fino allo sviluppo odier. Questo ovviamente va a impattare in maniera clamorosa su quelle che erano le credenze dell'Ottocento. Si credeva ancora, come è scritto nella Bibbia, nei testi sacri, che l'uomo fosse stato creato da Dio in un giorno, anzi a immagini e somiglianze di Dio, no? Come dice la Genesi. Questo oggi non è più un problema neanche per la Chiesa, non ci sono problemi ad ammettere la teoria dell'evoluzione della specie, perché la Bibbia, ricordiamolo sempre, è un testo ispirato da Dio, ma scritto dagli uomini, e quindi non deve essere interpretata alla lettera, ma deve essere interpretata appunto tenendo conto del contesto in cui viene scritto. D'altronde, la scienza oggi ci fa risalire fino al Big Bang, probabilmente, tra l'altro, non abbiamo neanche la certezza, ma è molto probabile che ci sia stata una concentrazione di massa talmente grande in un unico punto, che poi si è esplosa e questa massa abbia creato energia in un universo che si espande, in un'energia che si espande. Nessuno, nessun scienziato, nessuna teoria scientifica ad oggi sa spiegare questa massa da dove si è arrivata. Quindi, la scienza non va in contrasto con la fede, come diceva giustamente Grilio, sono due ambiti incommensurabili, cioè a sé stanti, non possono, non sono alternativi, ecco. E perché allora citarvi Darwin? Sicuramente per l'impatto della sua idea dal punto di vista teorico, ma anche per l'importanza che la teoria della lotta per la sopravvivenza ha sulla società dell'Ottocento, in particolar modo per l'origine del cosiddetto darwinismo sociale, cioè quella teoria sociologica, non di Darwin, ma di persone che riprendono la teoria di Darwin, secondo cui anche nella società, anche nelle città industrializzate dell'Ottocento, sopravviveva soltanto il più forte, il più adatto. Questa teoria del darwinismo sociale applicava quindi anche alla vita umana, all'ambiente cittadino industrializzato, quelle teorie che Darwin aveva invece utilizzato per spiegare l'evoluzione delle specie. Quindi è un'applicazione un po' meccanica, un po' indebita, possiamo fare questa critica, delle teorie di Darwin. Però per chi credeva al darwinismo sociale, alcuni individui risultavano più adatti rispetto ad altri a sopravvivere, quindi la degradazione dei ceti sottoproletari, degli ubriaconi, dei mendichi, delle persone povere e marginate, eccetera, dovuta alla loro minore capacità di adattamento. E sono tutte tematiche che vedremo, vanno un po' di pari passo con il positivismo che abbiamo appena abbozzato. Ci sono anche scrittori come Zola e i fratelli de Goncourt in Francia, scrittori del naturalismo francese, che vanno con il loro romanzo sperimentale, e questo lo vedremo bene in letteratura, ad indagare le pieghe di questi miserabili, di queste persone che vivono in queste condizioni deprivate, disagiate, alienate. Marx direbbe che sono invece il frutto dell'alienazione, della mercificazione del lavoro, dell'assolutamento capitalista. E quindi questo darwinismo sociale diventa quasi un modo per giustificare le diseguaglianze sociali, le ingiustizie della società. E in Italia avremo un movimento fondamentale per la nostra letteratura, il verismo, con Capuana, De Roberto e soprattutto Verga, che andranno a denunciare i mali di questa fiumana del progresso, la chiamo così in Verga, che travolge tutti. Il malavoglio, che abbiamo già più volte citato, è un esempio clamoroso da questo punto di vista. Ecco, la differenza tra il naturalismo francese e il verismo italiano, l'anticipo è che nel verismo c'è solo volontà di denuncia, c'è sfiducia nella capacità di migliorare. Invece per Zola, per i naturalisti francesi, denunciare è il primo modo per provare a migliorare questa società corrotta. Sicuramente, però, per comprendere le contraddizioni della seconda metà dell'Ottocento, della Belle Epoque, dobbiamo partire da questo presupposto. Ovvero che nella società che andava verso il migliore mondo possibile, secondo Comte, c'era invece una cinica selezione naturale, e c'era chi credeva ciecamente a questa legge di natura, una legge necessaria, che i più deboli, i più disagiati, i più disadattati, erano destinati a soccombere dinanzi alla legge del progresso. Quindi un mondo di luci e ombre, un mondo di contraddizione, un mondo che idealmente va verso il progresso sempre più spinto, verso il migliore dei mondi possibili, e in realtà poi vive profonde accelerazioni, profonde contraddizioni che soltanto alcuni maestri del sospetto, potremmo definirli così, riescono a smascherare. Mi vengono in mente su tutti i Mars, che abbiamo approfondito, e un altro, Nietzsche, che denuncia la fine degli ideali, la morte di Dio, la fine della morale borghese, il crollo dei valori ideali su cui si fondava il capitalismo borghese. Ma lascio al studio della filosofia l'approfondimento di queste tematiche. Per noi, per quanto ci riguarda, interessa, dal punto di vista storico, capire che, appunto, la seconda metà dell'Ottocento, la Belle Epoque, è un'età di profonde contraddizioni, che si nasconde dietro al belletto, dietro al trucco, dietro a un'apparenza affascinante.